Blackwood Ride on the Rhythm 8.09 martedì 21 maggio, questo è il Cristal History delle 8 appunto qui a Good Morning Milano, come sempre 96.2 FM, Dub Plus e anche poi l'app per iOS Android, insomma il sito internet lo sapete e ricordatevi sempre goodmorning.milano.it per rivedere e ascoltare tutto quello che succede qui la mattina. Ci hanno raggiunto anzi in studio con noi due ospiti per parlare di un'iniziativa che avverrà appunto questo giovedì 23 maggio allo spazio Teatro 89. Sto parlando di Gabriella Mosca, presidente della fondazione Durante Noi, buongiorno Gabriella, buongiorno e benvenuta. Easy Ruff, frontman, ti piace Easy come va benissimo no? Bellissimo. Frontman dei Donkeys Forever, un gruppo ormai fa vent'anni quest'anno, vent'anni e sentirli bene nel senso che appunto vi sentiamo suonare ormai da vent'anni. Che cosa? Il Rolling Stones. Sì, è un omaggio diciamo ai Rolling Stones che è questa band inglese che è stata la colonna sonora della mia vita quindi ho messo in piedi questo gruppo vent'anni fa e andiamo benino dai. E come direbbe un illustre magistrato che diceva che ci azzecca? Che ci azzecca quindi Easy Ruff, Donkey Forever, Rolling Stones con la fondazione Durante Noi e Gabriella Mosca? Gabriella tu ce li hai fatta azzeccare invece? Sì, vabbè forse suoniamo la stessa musica, ci siamo conosciuti tramite amici e quindi abbiamo condiviso subito questo pensiero, questo desiderio che noi avevamo di organizzare una serata speciale con lo scopo di raccogliere fondi per Casa Caldera che è una casa abitata da persone con disabilità che noi sosteniamo. E quindi la proposta, Easy ha accettato quest'idea, anzi si è fatto subito insieme a noi promotore dell'iniziativa con il suo gruppo e direi che più di così non potevamo desiderare. Bene, suonate la stessa musica effettivamente, io la prenderei come paroliera potreste pensare di fare un disco inedito, no Easy 20 anni di musica, 20 anni di Rolling Stones, no quello che state vedendo adesso inquadriamo Easy un attimo per la regia, ok sì non è Mel Brooks è Easy, sai che tu assomiglia a Mel Brooks te l'hanno già detto? No, ma no ma è uguale, ragazzi è uguale a Mel Brooks, non so se l'avete visto, insomma niente male direi però. Easy 20 anni di musica, come ci si arriva a fare 20 anni di cover dei Rolling Stones che tra parentesi, cioè le sapete fare tutte? Perché è impossibile farle tutte. Non è questo di saperle fare, le potremmo sapere fare, il problema è che sono 400, quindi noi ne abbiamo un 150 in repertorio, penso che basta. Sì basta e avanza, basta e avanza. Come si arriva appunto a fare una carriera da alter ego di Mick Jagger? Allora, alter ego di Mick Jagger è una parola che non mi piace molto perché io l'ho sempre fatto per la musica, per la passione che ho per la musica, non per un'imitazione assolutamente, ma assolutamente. Io cantavo queste canzoni da quando avevo 10 anni, 11 anni, capito? Quindi ce l'ho proprio dentro. Si arriva con la passione, si arriva con la passione. La passione non solo mia ma anche dei ragazzi che stanno con me. Insomma fate 20 anni appunto di carriera e cosa abbiamo in mente appunto Gabriella per questo giovedì? È un concerto, un concerto tributo appunto a Rolling Stones che però appunto farà del bene non solo a chi ascolterà la musica ma anche poi a chi... Esatto, esatto. L'obiettivo primario è che sia una serata divertente, piacevole per gli appassionati di musica e non solo e credo sicuramente lo sarà grazie a questa band. Per noi ha un duplice obiettivo, quello di raccogliere fondi a sostegno di Casa Caldera e in particolare perché avremo il desiderio di poter organizzare insieme alle persone che abitano nella casa. Sono 5 persone con disabilità che vivono aiutate, diciamo supportate da figure educative, da persone di assistenza tutto il giorno e abbiamo il desiderio di riuscire ad organizzare con loro delle giornate fuori porta, dei momenti di svago che possono essere anche delle semplici gite, ci piacerebbe organizzare nel prossimo periodo estivo un weekend per spezzare un po' la quotidianità milanese che è faticosa, lo sappiamo per tutti e il caldo estivo pesa anche per loro e quindi organizzare questi momenti di svago soprattutto se sono uscite fuori città per le persone che abitano in questa casa è veramente faticoso e oneroso perché vuol dire organizzarsi e sostenere dei costi di trasporto. Infatti i costi ci sono, i costi di trasporto non solo. I costi sono elevati, il costo delle persone che li accompagnano e quindi abbiamo bisogno di un aiuto ma soprattutto lo scopo è quello di sensibilizzare anche le persone che non ci conoscono, far conoscere la fondazione e quindi crediamo che è una serata così dove la passione di questo gruppo possa accompagnare la passione che ha la fondazione nel seguire tutte le attività che abbiamo in quartiere. E allora andiamo con un po' di musica a questo punto, ovviamente non potevo che mettere i Rolling Stones, non potevo che mettere... Vediamo cosa hai scelto. Easy, 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 potevo mettere i Beatles se volete via. Ma io adoro i Beatles, ma sono due cose diverse. Volevo capire se... Quindi è sbagliata questa cosa del partito di uno, partito dell'altro? Si può amare entrambi? Esiste come in tutte le fazioni, come in tutte... Esiste, esiste, però chi capisce di musica non può non apprezzare i Beatles. Bene, e dopo questa Rolling Stone con Star Me Up. Rolling Stone, Star Me Up. 8 e 19 minuti, martedì 21 maggio, Crystal Radio, 96.2 FM, Daplasso, non lo sapete. Ve lo ripeto, sembra che non sa mai che siete distratti lì alla guida a guardare il naviglio, se è alto, se è basso, se esce, se non esce. Non esce stamattina, tranquilli che la situazione sta rientrando. C'è ancora l'allarme meteo, mi raccomando, non fate stupidaggini, ma siamo abbastanza tranquilli questa mattina. E invece siamo molto emozionati nell'attendere quello che succederà giovedì 23 maggio, l'ora 21 allo spazio Teatro 89, con questo concerto tributo ai Rolling Stones, con sul palco i Donkeys Forever, per la fondazione Durante Noi, appunto. per raccogliere fondi per Casa Caldera, ma non solo, nel senso che appunto, insomma, sono tante le cose voi, la fondazione Durante Noi, voi, che fate, appunto, non solo in Caldera, ma soprattutto adesso, lì avete creato veramente un polo, come si dice, polo d'eccellenza, ti piace quando si dice questa cosa? Noi giornalisti siamo subito entusiasti. Siamo entrati in punta di piedi, grazie a Cooperativa Ferruccio De Gradi, che è la proprietaria del condominio in via Caldera 111, dove siamo noi, e quando ci siamo conosciuti ci hanno messo a disposizione questo bellissimo spazio, è un appartamento molto grande, dove insieme alle famiglie della fondazione abbiamo pensato che potesse essere il luogo ideale dove poter aprire questa casa e ospitare persone con disabilità. Abbiamo aperto poco prima del Covid, quindi è stata un'esperienza doppiamente sfidante, però ecco, siamo qui, ora la casa è abitata da queste cinque persone, stanno bene, sono felici, sono diventati amici, e la casa è gestita da Spazio Aperto Servizi, che è una cooperativa di Milano e che ne cura proprio la gestione, diciamo, coordina il personale di assistenza, che presidia la casa sempre, tutti i giorni, tutte le ore, anche di notte, e ne coordina le attività, diciamo, insomma, la vita di queste persone. La cosa interessante di quello stabile, chiamate come si diceva una volta, è che poi c'è dentro anche una libreria, una biblioteca, scusami. Infatti, dopo Casa Caldera è sempre stato, diciamo, il nostro desiderio. Quando abbiamo aperto la casa pensavamo contestualmente di poter aprire già una piccola biblioteca di condominio proprio negli spazi, nel salone antistante la casa, che proprio favoriva questa possibile connessione anche con gli abitanti del quartiere e del condominio principalmente. Però poi con il Covid non è stato possibile, gli abitanti della casa, i ragazzi hanno preso possesso di questo spazio, perché ovviamente si sono un po' allargati, diciamo, però il nostro desiderio rimaneva, il nostro obiettivo rimaneva, e Cooperativa De Gradi è stata molto gentile nel metterci a disposizione. È un locale per la nostra sede, quindi per poter essere presenti in quartiere, conoscere il quartiere, seguire più da vicino la casa, e soprattutto un altro spazio, è uno spazio negozio, diciamo, quindi con vetrine sulla strada, su Via Caldera, e un'entrata sul retro direttamente nel condominio proprio di fronte alla nostra sede, dove abbiamo avviato questa biblioteca di quartiere, grazie inizialmente a una donazione di un nostro amico, che ci ha praticamente donato la sua biblioteca, la sua raccolta di libri di una vita, e ha preferito, insomma, donarli a noi, e pensare che questi libri potessero avere una seconda vita, un futuro. E poi abbiamo aperto la biblioteca grazie a solo volontari, i soci della Fondazione Durante Noi inizialmente, e poi il progetto è stato condiviso da molte altre persone che si stanno avvicinando, fra cui posso dirlo, la moglie di Isi, Simona, è una nostra volontaria, e quindi la biblioteca riesce a rimanere aperta tre mezze giornate alla settimana, per il momento, e qualche sabato al mese, dove facciamo delle attività particolari, soprattutto per i bambini, e stiamo, insomma, iniziando a conoscere il quartiere. Se chi ci sta ascoltando ne vuole sapere un po' di più, sappiate che su Milano News c'è una bellissima intervista fatta proprio all'interno della biblioteca Caldera, in occasione della Civil Week, siamo andati appunto a conoscerla, insomma, potete farvi un'idea di quello di cui stiamo parlando. Isi, abbiamo sentito Star Me Up, la fate? No. Perché? Spiegami bene, perché è volutamente, no? Non la fate, nel senso che... No, non la facciamo perché comunque è forse uno dei pezzi che mi ha più stufato. Immagino, immagino. A furia di farla dopo vent'anni. No, poi non lo so, bo. Sì, mi piace molto. No, no, ma perché cosa avete pensato di fare, appunto? Mi dicevi prima fuori onda. Fate i pezzi un po' meno... No, i pezzi più conosciuti, proprio perché è un concerto più breve, quindi concentriamo un po', questa volta faremo una cosa un po' diversa dal solito, hai capito? Perché di solito invece voi fate proprio un viaggio all'interno del... Sì, facciamo, certamente ci sono sempre i pezzi conosciuti, però ce ne sono parecchi anche che il pubblico, diciamo, non conosce, insomma. La maggior parte del pubblico non conosce. Insomma, è anche un po' una missione di educazione. Bravissimo, bravissimo. No, nel senso che non voglio essere presuntuoso. No, 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 no. Però è comunque una missione di far conoscere questa musica in Italia, che non è proprio il paese proprio con la tradizione musicale dei Rolling Stones, ok? È più un paese che ha tradizione musicale melodica, musica napoletana, queste cose. Quindi i Rolling Stones, i Beatles, già vedi, sono già più melodici e già più facili. E quindi, diciamo, è una bella mission. Tu hai vent'anni che suoni i Rolling Stones, però ho saputo che due volte ti è cambiato di suonare qualcos'altro, giusto? Sì. Dicevi prima, cos'è successo? Non eri ammalato? Avevi la febbre? No, no, perché? È successo che a me personalmente piace la musica di quegli anni, di quell'epoca, degli anni 60 e 70. Adesso mi daranno del boomer, ovviamente. Ma no, va bene. Però piace tutto e quindi abbiamo scelto di fare un omaggio all'Uride, ai Velvet Underground, l'abbiamo fatto recentemente qui a Milano. Sempre qui in zona tutto, quindi bene, bene, bene. Al mare culturale. Al mare culturale. Allora, dai, siamo quasi in chiusura. Ricordiamo bene allora l'appuntamento, no? Così diamo tutte le coordinate giuste. Gabriella, vai. Giovedì 23 maggio, il concerto inizierà alle 21, con le sorprese e con le canzoni che ci vorranno suonare i Don't Kissed Forever. I biglietti sono in vendita per chi vuole, suma il ticket, il prezzo è di 15 euro. L'intero ricavato andrà a Fondazione Durante Noi per lo scopo di cui ho parlato prima, comunque a sostegno di Casa Caldera. Se per chi non potesse partecipare o non volesse acquistare i biglietti tramite Mail Ticket o non riuscisse, i biglietti saranno anche in vendita la sera del concerto e ovviamente chiediamo sempre a tutti, a chi non potesse partecipare, a chi lo desiderasse, può fare una donazione per questo progetto che abbiamo tramite il nostro IVAN, lo trovate sul nostro sito, lo trovate sui social, lo trovate nell'invito al concerto. Quindi vi aspettiamo, credo che sarà una serata principalmente di divertimento, di educazione musicale, sicuramente la passione di cui ha parlato Isi è la stessa passione che ci mettiamo noi nei nostri progetti, nella biblioteca, in quartiere, con tutte le nostre famiglie che seguiamo. Isi, dacci le coordinate anche per seguire i Don't Kissed Forever. Dove li troviamo? Allora, abbiamo il nostro sito, dove ci sono le date che siamo in porcinto di fare, www.donkysorever.net, ok? Poi la pagina Facebook, sempre il nome Don't Kissed Forever, la pagina Instagram, insomma i social live. Bene, e appunto se non volete perdervi, ci avete un modo di farlo. 23 maggio, giovedì questo, alle sera, alle 21, allo Spazio Teatro 89, con questo concerto tributo di Rolling Stone, e diamo una mano anche alla fondazione durante noi. Grazie mille alla presidente Gabriella Mosca, grazie mille Isi anche a te, porto i saluti al resto della band, che insomma è bella numerosa e capace. Grazie mille ancora, grazie anche a voi che ci state ascoltando, continuate ad ascoltarci. Chiudo con i Beatles, visto che metto che non c'è una diatriba. No, non c'è assolutamente. Drive My Car, quella un po' rock anche che ci sta, no? Va bene, dai, ok. I Beatles con Drive My Car, qui alle 8 e 27, Crystal Radio, Good Morning Milano.